Non si può descrivere la passione se non la si può vivere, noi ve l'abbiamo fatta vivere tutta di sound del V8 Ferrari, scatenano i fan club presenti qua per questo abbraccio virtuale a tutta la scuderia Ferrari Giancarlo Fisichella voglio un grandissimo applauso per Fisico e per Rientina Ferrari Formula 1